Finalmente, domani prendo per la prima volta l'autobus da sola. No, non mi piace. Mi piacerebbe che l'autobus fosse così. Che la gente sorridesse. E che fossero gentili fra loro. Non importa da dove veniamo, ma dove vogliamo andare. E come ci andiamo dipende anche da ognuno di noi. No, non mi piace.